Ah, ora giocheremo a Damo Gas, speriamo di non essere l'impostore, io mi voglio truccare a casa. Beh, ma io sono ninja, non so, e come i ninja sono sempre l'impostore. Ascoltatemi, io sono stanco, lasciatemi dormire. Allora, la tasca mia è quella che cosa devo fare e... Ah, giusto, ma... Oh, ma... No, ma questa tasca è bruttissima, praticamente devo stare fermo. Questa tasca è bruttissima! Oh, che stai facendo? Ehm... Non ti avvicinare, non ti avvicinare, non ti avvicinare... Bene, io stavo facendo la tasca del restare fermo e il viola mi è pure passato, quindi solo te mangi. Ma io stavo facendo la tasca del restare bello! Ma, ma che tasca è? Oh, è una tasca, pure quella! Noi ragazze dobbiamo essere meglio, dobbiamo essere accoggiate! Ma, 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 scusami, ma... Scusami, ti puoi levare di mezzo? Ma, ma, sono morto! E sei morto di nuovo! E ora stati zitto! Bene, dicevamo! Allora, secondo me è rosa! No, 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 sei tu, nero! No, 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 no! Oh, no, no, no! No, ho schimpato! Ma perché ho schimpato? Mi dispiace! Perché sempre questa tasca? Non ne posso più? Oh, oh, oh! Ciò! Ma che schifo! Che schifo! Ma dove hanno queste cose? Eh, scusami! Ciò! Ho vinto, che bello!